In primo luogo vi ringrazio di cuore per l'invito, per l'occasione e per la disponibilità ad ascoltarmi nonostante la distanza. È molto complicato fare memoria, ricordare colui che scrisse un elogio dell'assenza di memoria, un testo del 1981, per me molto importante, nel quale Tony dichiara che la memoria si legge solo nel futuro. Tra le tante dichiarazioni materialiste, ostili alle superstizioni, c'era indubbiamente questa, c'era l'ostilità nei confronti della nostalgia e un certo scetticismo nei confronti dell'inconscio e del passato. Io vorrei però indicare qualcosa che ha riguardato il mio incontro, il nostro incontro perché è stato un fatto collettivo con Tony. E in secondo luogo invece vorrei provare a confliggere con una certa immagine di Tony che gli avversari politici nei dibattiti della sinistra radicale, rivoluzionaria, di movimento, che gli avversari politici hanno attribuito a Tony. Per provare questo il finale, e sarò molto breve, a rilanciare su una questione ancora da pensare o che dovremmo tentare di pensare assieme, di farlo ovviamente nella pratica, nelle lotte, nell'esperienza collettiva. Il ricordo, Tony noi l'abbiamo conosciuto come Tony Underground, quindi documenti battuti a macchina, fotocopie, ma soprattutto quella incredibile costellazione culturale degli anni 90 che sono state le riviste, le riviste cartacee, fino al sito più strutturato, quello di Sherwood, dal quale noi attingevamo moltissimo, penso ai mesi immediatamente precedenti a Genova 2001, per esempio. Le riviste Riff Raff, 1993-94, l'anno prima, 1992, iniziava la rivista Deriva Prodi. Ovviamente nella Costellazione c'è la Pantera, ci sono i seminari parigini dei primi anni 90, nei quali si pensano le categorie che hanno poi costruito gli articoli delle riviste, ma anche l'elaborazione politica dei centri sociali, alla fine degli anni 90, dalla carta di Milano, fino alle tute bianche, fino poi ai disobbedienti. Ricordo un libro del 96, per me, per noi importante, curato da Beppe Caccia, L'inverno è finito, un titolo bellissimo tra l'altro. Libro nel quale questi articoli di Tony, usciti sul manifesto o sul Riff Raff, venivano raccolti. Quindi la nostra esperienza posse. La rivista che nasce senza di noi, nasce da Tony, da Judith, da Michael, e che poi costruisce una redazione nella quale con Alberto e con molti altri entriamo a far parte. Quindi il mio ricordo ha a che fare con questa costellazione, con un decennio, i 90, che a mio avviso è stato un decennio, quello della fase espansiva, della globalizzazione, dell'impero americano, se volete, un decennio di grande sperimentazione culturale. Quindi un Tony underground, oggetto di culto, alla ricerca dei suoi testi che ancora non erano pubblicati, poi ovviamente arriva Manifesto Libri, che ripubblica buona parte dei suoi testi, ne pubblicheremo, o meglio, li ripubblicheremo nei prossimi mesi. Però, diciamo, la ricerca era una ricerca che avveniva nella dimensione informale della pratica, della pratica politica, del lavoro comunicativo di movimento. Qual è invece, secondo punto, l'immagine di Tony sulla quale spesso abbiamo battuto la testa da attivisti politici, da militanti, da militanti politici dentro l'università, da militanti politici nel dibattito del movimento no global, poi a seguire dei movimenti universitari nella loro ripresa, dal 2005 in poi, un Tony progressista, un Tony che concede troppo al lavoro vivo, alla cooperazione produttiva, all'autonomia dei soggetti produttivi, quindi un Tony che vede il comunismo già in essere, già in cammino, già dentro il capitalismo neoliberale, globalizzato, o meglio, che pensa il capitalismo globale, i processi di neoliberalizzazione come una sorta di comunismo alla rovescia. I prerequisiti, dicevano Tony e Michael, in un libro fondamentale, il lavoro di Dioniso, di comunismo nella società del capitalismo, appunto, neoliberale e globale. In una battuta, con una domanda, ci siamo davvero riappropriati, e lo dico pensando all'intervento di Gianni di prima, a partire dunque dalla pratica sindacale, dall'inchiesta, dal conflitto, dallo sciopero, dalla conoscenza del nuovo tessuto produttivo, ci siamo, il lavoro vivo, si è davvero riappropriato del capitale fisso. È vero che l'imprenditore è solo un apparato di cattura che arriva dopo, il comando, diciamo così, ha un tratto parassitario, invece è vero che le cose stanno diversamente, che il ciclo reazionario, i fascismi del nostro tempo, le guerre che si moltiplicano, tutto ciò ci segnala che invece non ci siamo riappropriati di nulla, procediamo verso l'impotenza quando va bene la servitù volontaria e comunque siamo del tutto marginali. Tony e Michael, e Tony aveva iniziato a farlo già negli anni Ottanta, insistono sulla categoria di sussunzione reale. Cos'è la sussunzione reale? È la società che si fa fabbrica, il nord-est questo lo sa bene, dalla fabbrica al distretto, alle reti produttive, quindi la centralità delle catene della logistica sia sul terreno locale che sulla dimensione globale. Cosa ci dicono Tony e Michael? Questa sussunzione reale, in verità, è il sogno del capitale, il sogno del capitale è l'autonomia del capitale dal lavoro. Se pensiamo oggi all'intelligenza artificiale generativa, al comando algoritmico, alla nuova robotica, pensiamo a questo sogno del capitale realizzato, cioè il tentativo di produrre il mondo senza passare per il rapporto di capitale e dunque per le mediazioni istituzionali che il rapporto di capitale porta con sé il sindacato, il welfare state, i parlamenti, la politica liberal-democratica e così via. Ecco, questa autonomia che viene rinnovata, e però, ci dicono Tony e Michael, anche sempre, l'autonomia è sempre di più del lavoro vivo, della cooperazione produttiva, dell'intelligenza, del potere costituente, cioè del lavoro vivo come nuova istituzionalità proletaria, un tempo della moltitudine, diciamo oggi. Ebbene, c'è del progressismo in questa affermazione? Evidentemente no. Perché? Perché esattamente questa autonomia del lavoro vivo porta con sé la necessità del capitale di agire con la minaccia di morte. Questo Tony e Michael cominciano ad affermarlo negli anni 90. Sì, c'era stata la guerra in Iraq, la prima, poi abbiamo conosciuto la guerra in Europa nel 99, con il Kosovo, e a seguire, dopo le torri gemelle, il backlash imperialista e le guerre diffuse in tutto il mondo. Beh, però, proprio oggi io penso che questa minaccia di morte del capitale nei confronti dell'autonomia del lavoro vivo sia nettissima. Quindi Tony progressista direi proprio di no, veniva citato da Judith a Parigi, prima da Marco Benjamin, Tony dice, anche per noi c'è l'Angelus Novus, ma attenzione, guarda in avanti e ci indica di camminare verso la bufera. Quindi siamo sul vuoto, sulla catastrofe, l'apertura è tragica, le guerre del nostro tempo ce lo segnalano, tutto ciò, ci direbbe Tony, è segno della nostra potenza e non, come banalmente potremmo pensare, della nostra impotenza. Di tutto questo non possiamo che essere enormemente grati, perché è una grande sfida del pensiero e della prassi, della ricerca politica, come apertura al possibile, come sguardo in avanti, che evidentemente non ha a che fare con il futuro che canta, il sole dell'avvenire, ma ha a che fare con la costruzione paziente di alternativa. Grazie. 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 Grazie a tutti